Dovranno rispondere dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine e comuni da sparo e ricettazione, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Sette le persone fermate dai carabinieri nel Napoletano. Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giuliano in Campania e della stazione di Fratta Maggiore hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli a carico di sette soggetti. Le indagini condotte anche con l'ausilio di attività tecniche sono scattate a gennaio dopo attentati e spari contro esercizi commerciali nei comuni di Fratta Maggiore, Fratta Minore ed Arzano ed hanno permesso di evidenziare l'operatività di un gruppo criminale organizzato e strutturato che controlla le attività illecite nel comune di Fratta Minore, soprattutto nel mercato della cessione delle sostanze stupefacenti con la gestione di una fiorente piazza di spaccio. Il sodalizio ha dimostrato di avere tra le altre cose disponibilità di armi di vario genere, alcune rinvenute e poste sotto sequestro nel corso delle indagini, pronte per essere utilizzate nell'ambito dell'attuale contrapposizione tra le diverse compagini delinquenziali interessate ad imporre ciascuna la propria egemonia sull'area al nord di Napoli.